Maestro, perché non aggiungi una figura in quella parte del foglio? Sembra un po' sbilanciato così. Ah bello, ce sarai te sbilanciato. Dimmi piuttosto, che te ne pare di questo Alberto Angela in versione felina? Questo è Ultra Blu. Quello che avete appena visto è uno scorcio di normalità in questo posto dove si fa arte e cultura senza limiti e senza disparità. Che si abbia o meno una diagnosi nell'area neuropsichica, si lavora insieme integrando tutti i tipi di mente, valorizzando il talento di ognuno. Accessibile a tutti, Ultra Blu si adatta alle peculiarità di ogni progetto coniugando arte, socialità e cultura, generando bellezza e crescita individuale e collettiva. Si sperimentano diversi linguaggi delle arti visive e performative diretti all'autodeterminazione e all'autonomia lavorativa di persone con diagnosi nell'area neuropsichica. Meraviglioso! Anche il Coro Blu sarà pronto per esibirsi nella nuova sede di Ultra Blu di prossima apertura. Più grande e professionale, ospiterà un atelier, una galleria d'arte, una libreria, un caffè. Uno spazio conviviale, flessibile, inclusivo e aperto a tutti. Insomma, vogliamo fare le cose in grande e ce la stiamo mettendo tutta! Donandoci il 5 per 1000 contribuirai a sviluppare un progetto innovativo capace di portare gioia, bellezza, creatività e ricchezza per tutti! Aiutarci con il 5 per 1000 non ti fa pagare più tasse. Basta scrivere il codice fiscale di Ultra Blu nella tua dichiarazione dei redditi. Con il tuo sostegno possiamo continuare a sognare. Grazie a tutti!